ciao a tutti sono brigida 34 anni nella vita lavoro in aeroporto sono un'agente di rampa ho conosciuto mvr life circa sette mesi fa ne ho subito amato il potenziale perché mi ha visto l'opportunità di cambiare la mia vita con i viaggi che sono la mia più grande passione